Siamo con Mattia Palmieri al termine di una vittoria importantissima, forse fondamentale sta a voi nell'ultimo turno fare ciò che avete fatto tutto l'anno, ovvero vincere le partite che il campionato vi metteva di fronte adesso la Serie A, dopo questa Serie A, è davvero vicina Sì, diciamo che questa partita è stata solamente il proseguimento di una lunga striscia di vittorie che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno, solo vittorie, manca l'ultima partita, veramente sarà una battaglia, tre punti alla Serie A Senti, questa sera avete legittimato un campionato contro forse l'avversario che più vi ha dato filo da torcere nel corso della stagione comunque sono quelli che hanno provato fino all'ultimo a evitare questa promozione diretta Vincere questa sera è una tappa che chiude tutto un campionato che finora avete dominato? Sicuramente la classifica parla chiaro, il campionato è stato dominato però ci terrei a fare i complimenti oltre che ai compagni di squadra soprattutto a tre persone fondamentali che ci hanno viziato e coccolato dall'inizio dell'anno come il nostro sponsor Emiliano, il nostro allenatore Alessandro Benedetti e il nostro grande presidente Alessandro Grandeaccio è stata la coronazione diciamo di un sogno da inizio d'anno Adesso appunto l'ultima e ti lascio andare, questa partita contro il Barcellona Caffè non potete concedervi proprio sul più bello distrazioni No, no, assolutamente, entreremo in campo fin dal primo minuto agguerriti e i tre punti sono fondamentali Vorrei fare solamente un saluto a un amico che oggi ha apprezzato la faccetta dal capitano Grande Daniel Alcini, grande fitness